Un notevole risultato per la presidenza Macron. A Parigi i più importanti i capi libici hanno raggiunto un accordo per far andare il paese al voto il 10 dicembre. La stretta di mano è avvenuta nel corso di una conferenza ONU organizzata dall'Eliseo per definire un piano di risoluzione della crisi libica. La presenza dei principali leader politici qui è già un segnale positivo. Tutti hanno accettato che si tengano elezioni legislative e presidenziali il 10 dicembre prossimo, ha dichiarato il primo ministro del governo di unità nazionale di Tripoli, Fayez al-Saraj. Insieme a lui il generale Khalifaftar, comandante dell'autoproclamato esercito nazionale, il presidente della Camera dei rappresentanti Aguila Salah e quello del Consiglio di Stato Khaled al-Meshri. Non è stato sottoscritto un documento finale, ma Macron ha sottolineato come sia la prima volta che questi dirigenti, che in alcuni casi si disconoscono reciprocamente, accettino di lavorare insieme. I tempi del vertice sono stati accelerati in un momento di vuoto politico per l'Italia. Alcuni commentatori ritengono che Macron ne abbia approfittato per prendere in mano le redini dei negoziati.